Dal Vangelo secondo Marco Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro Andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo Là dove entrerà, dite al padrone di casa Il maestro dice Dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala Arredata e già pronta Lì preparate la cena per noi I discepoli andarono Ed entrati in città Trovarono come aveva detto loro E prepararono la Pasqua Mentre mangiavano prese il pane E recitò la benedizione Lo spezzò e lo diede loro Dicendo Prendete Questo è il mio corpo Poi prese un calice E rese grazie Lo diede loro e ne bevero tutti E disse loro Questo è il mio sangue dell'alleanza Che è versato per molti In verità io vi dico Che non berrò mai più del frutto della vite Fino al giorno in cui lo berrò nuovo Nel regno di Dio Dopo aver cantato l'inno Uscirono verso il monte degli Ulivi Più volte nei suoi insegnamenti Gesù dice Io sono la vera vita Io sono il buon pastore Io sono la luce Ma qui Gesù usa un altro termine Dice Questo è il mio corpo Dove l'aggettivo possessivo mio Fa da attributo Questo è il corpo di me Cioè in altre parole Questo sono io Parole inaudite In nessuna cena ebraica Sono mai state pronunciate Nessun profeta le ha mai dette Io sono questo pane Il pane che Gesù offre Notate È un pane spezzato È spezzato non per un'opportunità Per distribuirne un pezzetto a tutti Non è per quello Ma Gesù compie un gesto simbolico E cioè in quel momento Sta alludendo alla sua vita Offerta per amore E Gesù dice Questo è il mio corpo Vivetene Anche voi Fate della vostra vita Un dono Gesù manda due discepoli A preparare la stanza Per la cena È interessante perché Il verbo preparare Ritorna molte volte in questi versetti Dice Andate in città Troverete un uomo Che porta una brocca d'acqua Beh facilmente riconoscibile Di solito Che portano Pesi O che portano A brocca d'acqua Sono le donne Quindi è facilmente Identificabile Ecco Seguitelo Seguitelo E ditegli che vi introduca Nella mia stanza Ecco è molto bello vedere Come Gesù è preoccupato Della preparazione Non tanto della stanza Ma dei discepoli Ecco io vedo allora Tutto l'itinerario Dell'iniziazione cristiana Che dobbiamo continuamente Percorrere e ripercorrere E ripercorrere sempre L'uomo che porta l'acqua Simbolo del battesimo Ci introduce Nella sala grande E bella Adornata Che è quella Dove Gesù spezzerà il pane Ed è quella Dove scenderà Lo Spirito Santo Battesimo Eucarestia Cresima È un po' il nostro programma pastorale Per questi anni Perché sì Siamo cristiani Ma a dire il vero Tante volte Capita Che lo siamo Senza aver mai Deciso Di esserlo Gesù è il grande appassionato Della vita Quella che inizia Nel grembo caldo Di una mamma Che scorre nel tempo E che si distende Per tutta l'eternità È bellissimo La vita che abbraccia Tutta la nostra esistenza Ma Gesù Non è solo un maestro Che è venuto Per portare dottrine Lui è venuto Sì Per perdonare i peccati Ma non è la cosa più importante Gesù è venuto Per darci La sua vita La pienezza La pienezza della sua vita Il sepolcro vuoto E poi il suo passaggio Che fa risorgere vita Questo è il mio corpo Ripeto Vivetene Vivetene Fate vostro Il mio modo Di stare in questo mondo E Gesù E Gesù vuole E Gesù vuole che fluisca In noi La sua vita Che il suo coraggio Scorra nelle nostre vene Il Corpus Domini È la festa della comunione La comunione con Gesù Ma anche la comunione Con tutto ciò Che vi è sotto il sole I fratelli Le sorelle Le persone Che ci passano accanto Sarebbe bello Che questo rapporto Non fosse più dominato Da parole Quali Avere Possedere Pretendere Ma che invece Fosse illuminata Dalla parola Donare Con l'Eucarestia Noi chiediamo Al Signore Il coraggio Di sapere Abbracciare Il mondo Abbracciare Le difficoltà Le solitudini Le famiglie Che non ce la fanno I papà Che non trovano Lavoro E anche Qualche volta Le macerie Dalle quali Deve pur nascere Qualche cosa Di nuovo Gesù dice Prendete Non soltanto Adorate Pregate Certo anche questo Ma Stringetemi Io voglio essere Per la vostra mano Un dono Per il vostro cuore Coraggio Voglio essere Dentro di voi Come la forza Che vi spinge Continuamente A donarvi Buona settimana Grazie a tutti Porte l'oiseau si léger